Quando parliamo di Sogri dobbiamo sottolineare la centralità del discorso sull'anima. È opportuno però sottolineare come la vita dell'anima non sia chiusa in se stessa, ma aperta agli altri attraverso il dialogo e quindi attraverso una delle caratteristiche essenziali della filosofia di Socrate è la mancanza di scrittura. Socrate non lascia niente di scritto perché sostiene che la parola scritta infiacchisca la memoria e pertanto ricorre esclusivamente al dialogo, al linguaggio parlato. Alla ricerca della verità che può avvenire soltanto attraverso l'incontro tra due o più persone, quindi soltanto attraverso il dialogo. Quindi l'importanza della comunicazione è centrale nella filosofia di Socrate. Se noi partiamo proprio dal significato etimologico della parola comunicazione che dal greco vuol dire mettere in comune le proprie idee, i propri pensieri, la comunicazione quindi fonda una comunità composta anche da amici, da persone che si conoscono. Gli amici sono tali in quanto condividono tutto nell'unione della vita e del pensiero. La unione coinvolge non soltanto la sfera teoretica ma anche quella pratica, così come viene espresso anche dalla filosofia contemporanea e in particolar modo da un filosofo del Novecento, Jaspers, il quale sottolinea questo aspetto in quanto è un dovere per l'uomo non interrompere mai la comunicazione, non sbattere mai la porta in faccia all'altro, non ritirarsi attestandosi sulla propria qualità. Oppure magari trincerarsi su le solite frasi del tipo «Io sono fatto così, che cosa ci posso fare?» e trincerarsi nelle proprie ragioni senza più prestare ascolto agli altri.